Giorni fa la celebrazione della 58esima giornata delle comunicazioni sociali, occasione per riflettere sui cambiamenti dei mezzi di comunicazione, comunicazione digitale e di intelligenza artificiale, traendo spunto dal messaggio di Papa Francesco. Proprio in occasione di questa giornata, stamane, i nostri studi hanno accolto il Vescovo della Diocesi Decireale, Monsignor Antonino Raspanti. Un incontro al di fuori di iniziative promosse dalla Diocesi, dove ognuno deve rivestire il proprio ruolo, quanto informale, percorrendo la storia della radio e della televisione, raccontata dai direttori Antonio Garozzo e Giulio Vasta, mostrando anche gli attrezzi del mestiere entrati ormai nell'archivio storico. Un escursus, ma anche un amarcord per sua eccellenza Raspanti. Anche lui ha avuto un trascorso in radio negli anni 70, curando una rubrica aperta alle domande e alle problematiche dei radioascoltatori. E' stato lo stesso Raspanti a raccontarlo nel suo breve intervento in radio, per poi soffermarsi a una breve riflessione ai nostri microfoni. Anzitutto sono contento di incontrare tutti voi. Una sede di radio televisiva, attraverso cui mi rendo conto di quanta gente ci lavorate, lo sforzo che fate, anche la pesantezza del lavoro che non è poca cosa. E poi vedere come negli anni, nei decenni ormai, si sia sviluppata moltissimo la tecnica, le modalità, il modo di fare di 30 anni a 40 anni fa è assolutamente ormai fuori uso, fuori gioco, e dunque l'aggiornamento continuo e i cambiamenti continui. Noto anche come si è cambiato anche chi fruisce e il modo con cui fruisce del vostro servizio. Se prima erano momenti amatoriali, di alcune ore al giorno, oppure un po' di musica la notte, per quelli che lavoravano la notte. Insomma era soltanto un po' di intrattenimento e poco più, un minimo di informazione. Adesso è un continuo essere presenti e portare addirittura in qualche modo gli spettatori o gli ascoltatori dentro la loro vita, la vostra vita nella loro vita. Ahimè, forse questo non è la cosa migliore, fino a quasi, non dico a confondere, ma vedere con chiarezza la linea di demarcazione tra, come si usa a dire, il reale e il virtuale, e che anche risvolti un po' pericolosi, però ci sono anche grandi vantaggi. Penso alle solitudini che possono veramente essere superate, non del tutto naturalmente, anche attraverso il vostro servizio. E poi soprattutto fare mentalità. Immagino nel mondo della legalità, dei costumi giovanili, come si può riuscire ampiamente a fare tendenza per evitare, e nel bene naturalmente e nel giusto, per evitare alcuni comportamenti e riuscire ad indirizzare verso comportamenti civici molto più responsabili, per esempio, verso il rispetto, verso la giustizia e la legalità e così via. Quindi un mondo che continua ad evolversi, ma che già è totalmente evoluto rispetto a 50 anni fa.